Giochiamo a vulcane, lo mettiamo sulla sedia, forse si deve essere sentito molto coinvolto Facciamo le foto, le polaroid, un bleffo che fosse lui l'ospite, insomma la buttiamo in cacciara come sempre A questo punto ci distraghiamo un attimo, vedo, è sempre camera mia ricordo, vedo del liquido giallo che esce da sotto il letto Lo scherzetto del buon Vittorio Abbiamo avuto anche questo quest'anno Un applauso a Vittorio Un applauso a Vittorio, un cane meraviglioso Un ospite e due gin tonic Questa è Gintoneria Immergiamoci La serata è quasi finita in realtà, voi direte meno male Ma c'è un secondo ospite che nel breve voglio presentarvi Che vi farà compagnia per qualche minuto Secondo ospite di quest'ultima serata live di Gintoria della terza stagione È Gintoneria Podcast Facciamo qualche minuto svelandovi segreti e storie del team Un po' di aneddote di quest'anno E non posso che farlo con l'unico compagno di viaggio che ho avuto in queste tre stagioni Mio co-host, la seconda stagione, mio grande amico Accogliamolo sul palco, alcuni di voi forse lo conoscono Amos Sisee Grazie, grazie dell'invito, grazie a tutti Grazie Fede Barengo, bellissimo È la ragione per cui, ripeto, l'avevo detto l'altra volta, andremo su Netflix, capite voi perché Amos ci apre le porte E sono anche quello che trova i brand per l'Ijab, i Burka Sempre lui Faccio tutto io Mi sembra, è un momento strano perché sembra un po' rispetto all'anno scorso il giorno della marmotta Abbiamo fatto tante puntate insieme ed è stato un po' un casino Siccome questo è l'ultimo momento, sarà uno special che uscirà in breve per il fine stagione Lo regalo al pubblico, c'è qualche aneddoto che dobbiamo tirar fuori Per forza È arrivato quel momento lì anche perché sennò poi cadono in prescrizione E soprattutto vi voglio presentare anche il nostro team Che abbiamo ringraziato ogni volta come fossero dei fantomatici, non so, caduti Che non si vedono ma hanno un peso specifico importantissimo E soprattutto nella puntata precedente avete visto Federico Barengo che citava un senatore Razzi che è comparso Quindi direi, bando alle ciance, c'è un saluto di un vecchio amico del podcast in diretta Qui per voi, regia Ciao amici di Gintoneria Podcast Ciao Antonio, vi faccio un saluto per la fine di questa stagione Mi sono divertito tantissimo con te e con il tuo amico Amos Amos Vi faccio un grande in bocca al lupo e una buona estate Ciao Grazie senatore Un genio, un genio, grazie Un applauso Grazie Ma il senatore Razzi che è stato nostro ospite l'anno scorso, ora ne parliamo Illuminare Illuminare Un gigante Un gigante Ci ha voluto, lui è tipo Patricia, c'ha la doppia personalità Ci ha mandato un'alternativa di video, mandiamolo, regia Vai Senatore 2 Ciao amici di Gintoneria Podcast Ciao Antonio Ciao senatore Vi faccio un saluto per la fine di questa stagione Mi sono divertito tantissimo con te e con il tuo amico Amos Grazie Vi faccio un grande in bocca al lupo e naturalmente vi auguro una buona estate Ciao 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 Era più di... Lui è un talento Allora partirei, vi regaliamo qualche aneddoto Il senatore Razzi è stato nostro ospite nella seconda stagione Era prima di Natale, ricordo c'erano i mondiali in Qatar Punta di Natale, che si mise anche il cappello Bravo E il senatore Razzi arriva a Milano in macchina da Pescara, da casa sua Poi dopo la puntata, che l'abbiamo tenuto lì tipo due ore e mezza Immaginate il senatore che entra Con la moglie Con la moglie, ora raccontiamo Poi è ripartito per Lucerna per andare a trovare il figlio che vive lì La moglie, raccontala tu, perché la vedevi forse meglio per prospettiva Allora, la moglie innanzitutto dovete sapere La situazione che salutiamo straordinaria Assolutamente sì, no, è meravigliosa lei Che conobbe il senatore quando lui faceva l'operaio in fabbrica Perché se avete visto la puntata saprete che lui nasce come operaio in fabbrica in Svizzera Lei lo conosce come operaio, adesso sta con un senatore Che è arrivato Ex senatore Un ballerino, un uomo di spettacolo Sicuramente un uomo di spettacolo, ballerino, non posso dirlo Comunque la scena, innanzitutto la cosa che mi ha colpito È che è arrivato con un Serie 7 lusso, BMW Però per mantenere quella radice, diciamo, nazionale popolare È arrivato sul sedile del guidatore Avete presente quelle cose che probabilmente mette vostro nonno sul panda? Quella cosa di Vimini che copre il sedile per non rovinarlo? Aveva quella roba lì sul Serie 7 È stata una roba incredibile E c'era questa donna che lo guardava seduta a fianco al letto di Tony Perché dove giravamo, dove si giravano le puntate Lo racconteremo anche dopo E effettivamente sia lo studio che anche la camera di Tony Una camera molto grande, spaziosa No, enorme E c'era questa donna seduta a fianco al letto E lo guardava con gli occhi dell'amore Sì, lei probabilmente pensava di essere sposata con Bill Gates Sì, 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 era Ma ha ragion veduta, sia chiaro È stata una bella puntata Tra l'altro lei e io delle tartarughine d'acqua E lei sedeva accanto alle tartarughe La cui acqua era particolarmente torbida in quel giorno lì Quindi c'era questa scena della moglie del senatore Che era lì, che guardava con l'acqua sporca Il senatore in fondo Puntata che però, tutto sommato, devo dire, è stata pirotecnica Ma piace No, no, veramente gradevole Veramente, veramente bravo Altri aneddoti del nostro connubio Ce ne sono tanti Devo dire, anche banalmente È rimancato, posso dirti in questa Anche tu, anche tu Anche stare qua Tu non sei mai stato qua No, 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 dico stare qua con te a parlare Posso dire, è stata Era un'esperienza di podcast diverso Era giusto che cambiasse Però è stato bello farlo insieme Ma ti faccio anche complimenti Perché veramente vedo che Ma cagare, perché sono svegliate da soli Quattro di noi Sono fie Ma evidentemente perché Se sei andato via tu Era giusto alzare il livello Poi la tradizione di Tony Di non mangiare prima delle puntate In realtà la traduce in non mangiare per settimane Prima delle puntate Io non l'ho mai visto mangiare Se non al ristorante Io ho qua No, 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 questo Questo è carino Allora, sì, qui Allora, dopo una puntata L'anno scorso Alessandro Malossi Alessandro Malossi Mi ha girato Puntata Sarà bello ricordare i numeri Ma non mi ricordo Alessandro Malossi, artista È venuto a Casano Lì era in studio Mi ha girato Era Si era fatto un po' tardi E abbiamo deciso di andare al Portegno D'Arsta Conoscete il Portegno, no? Sì, ma perché abbiamo Siamo andati al Portegno? Dillo, dai Perché? No, io ho detto Andiamo al Portegno Io ci ho lavorato Perché Vabbè, questa è un'altra storia Non la racconteremo oggi Ci ho lavorato al Portegno Mi trattano bene Sono amici Sono amici Sono di casa Andiamo lì Vabbè, Amos era un po' Era un po' brillante Per senso la puntata Le luci L'hanno emozionato Mangiamo Portiamo anche Il mio conquilino È il videomaker Edu Della seconda stagione 130 euro a testa di conto Io che sono sconto Non è male che sono amici No, tranquillo Non ti preoccupa, hermano Non mi conoscevano Non mi riconoscevano Batosta alla fine Insomma C'ho lasciato anche un cappellino Quella sera Una bella storia Devo dire Il più grande incidente Questo Dovete sapere Il nostro podcast Ha un'attrezzatura ancora rudimentale In termini sonori Di audio Qui possiamo giocare di grandi mixer Grazie al Maestro Onori Ma a casa Sino ad ora Isabella lo sa bene Che qui nel pubblico Giriamo registrando l'audio Con Logic Craccato sul mio computer E Logic Craccato L'anno scorso Mi ha fatto un brutto scherzo L'Amospide Alessandro Trommasi Founder di Will Puntata Mi piacerebbe dire 18 Ma non ricordo Che tra l'altro Arrivava stanco Morto Cioè è arrivato Che dopo una giornata di lavoro Ci ha raccontato Che appunto Nella puntata Lui Arrivando da un heritage militare Il padre militare Lui militare Si alza alle 5 e mezza del mattino Va a correre Quindi immaginatevi Alle 10 di sera Una persona del genere Cioè era completamente Completamente Stato Poi era anche Obiettivamente Un privilegio Per l'ospite Certo Finisce la puntata Vado per scaricare l'audio E vedo che se l'ha bloccato 25 minuti prima Quindi avevamo parlato Per 25 minuti Senza reccarlo E col beneplacido Del buon Alessandro Che ringraziamo ancora Abbiamo ripetuto La puntata Allo stesso modo Quindi se voi Andate a riprendere Gli ultimi 25 minuti Di puntata Diciamo Noi tre Che parliamo tipo Si e poi Dove eri stato Ma si Poi sono andato A lavorare da Will Insomma lo sai già Le battute Anche i giochi alla fine Erano tutti scontati Quella è stata forse Una delle puntate Una bella puntata Però triste Difficile da fare Ma immaginatevi La faccia di Tony Che come sapete Probabilmente È un imperfezionista Quando è andato Dietro al computer Guardandomi Mi ha detto Non ha registrato Cioè ho sentito Proprio il freddo Calare nella stanza Ho visto E poi noi abbiamo Il nostro tecnico audio Sound editor Che ora conoscerete Si chiama Manu Che è a Manchester Io ogni volta Per lui è tipo Mamma santissima Dell'audio Anche se non mi funzionasse La suoneria del telefono Io chiamerei comunque lui Se non so Si rompesse il preservativo Chiamerei lui E quindi l'ho chiamato La Manchester Video Scherzo Non uso Non uso chiamarlo Video chiamata Col buon Manu E io lo chiamo Per ogni cosa Lui mi risponde Incredibilmente Sempre Lì mi aveva guardato Ma non c'era rimedio È stata dura Però ha fatto parte Del percorso del podcast Si assolutamente Prima di guardare i video Che il nostro team Ci ha regalato E di lasciare Che il senatore Razzi Insomma Voli via Da questo schermo Tuo episodio preferito? Allora Mio episodio preferito Ti direi Allora Della stagione Che abbiamo fatto insieme Probabilmente Stragapede Che oltre ad essere Un grande amico Ha raccontato Le storie di vita Assolutamente Francesco Stragapede Raccomando Due puntate Addirittura Perché fu Una puntata Talmente lunga In cui bevemmo In cui bevemmo tantissimo Tantissimo La dividiamo in due puntate E degli aneddoti Veramente bellissimi Ve la straconsiglio E invece di quelle Di quelle live Mi è piaciuto tantissimo Barengo Anche Livio Ma proprio il format live Mi piace un sacco Quindi secondo me Proprio tutto Anche il format live Lo metterei tra i miei preferiti A te invece La prossima La prossima Classico Risposta Risposta Paracula Funziona sempre Come voglio impostare Questi pochi minuti Che ci restano Prima di bere E confonderci In questa notte milanese Insieme Voglio presentarvi Un po' il nostro team A cui sono molto grato Ora vorrei anche Insomma dare un volto Alle persone che Rendono il podcast possibile Ci hanno registrato So perché me l'ha detto Fede Prima Alcuni saluti Quindi con degli piccoli Spunti e aneddoti Di questa stagione Maestro regia Col primo video saluto Questo è il buon Manu Da Manchester Peraltro Ciao Gintoneria Live Sono Manu Sound designer Mastering engineer Di Gintoneria Podcast Come alcolisti anonimi Sono qui da tre stagioni Il mio episodio preferito All time Sicuramente l'episodio Con Maurizio Tentella Per gli aneddoti E tutto quanto Adesso Tony Va benissimo Il podcast live Le camere La professionalità Però racconta un attimo Che cosa significa Creare un podcast A partire da una stanza bianca In ogni caso Tony Sto ancora aspettando La mia bottiglia Di Elba Gin Un saluto Cheers ragazzi Tony però Così Disattende Disattende Allora Allora È che L'Inghilterra Ora è fuori da lui Quindi è più Scherzo Lui tra l'altro È pugliese come me Un caro amico Manu L'aneddoto interessante Rispetto all'apertura Del podcast È che il podcast Sorge dove c'era prima La mia stanza Dove io dormivo C'era proprio il letto È una Immaginatevi proprio Una zona Una nicchia Nel muro Ed è abbastanza spazioso Era ideale Per essere una stanza a letto Io l'ho ritenuta ideale Per essere Col bene placido Del mio padrone di casa Uno studio di podcast E la cosa divertente Che mi ricordo È che lui è venuto L'ho preso dall'aeroporto Cioè dalla stazione Ci siamo messi lì Abbiamo creato Tutta la sigla Le varie cose Lui davvero Un grande Tra l'altro E poi dovevamo montare I pannelli fonoassorbenti Che abbiamo preso Per sistemare tutto Settare tutto E ci siamo messi Per attaccare Una colla Iper Una roba Bruttossi Cernobil E ci siamo messi Maschere da sci Indicatissimo Pantaloncini da calcio A torso nudo Ci siamo messi A attaccare Sti pannelli fonoassorbenti Sparando la colla È un ricordo Di questa giornata qui E poi abbiamo girato La sigla Della scorsa stagione Come nasce la sigla? La sigla nasce In una serata In cui stavamo Era l'ultima sera Da dovevo andare Bisognava fare la sigla Senza averla preparata C'era la mia ex fidanzata Cosa tipica di te Tra l'altro Che prepari tutto Sempre con largo anticipo Sì io sono un amante Nell'ultimo minuto Devo dire la verità È comune Che la sera prima Di una puntata Sia una sera Di grande estro E lì bisognava fare la sigla L'era la mattina dopo E quindi ci siamo inventati Quella che è stata La nostra sigla precedente Quella nuova Devo dire L'ha fatta sempre lui In due ore Bravo Manu Grande Grandissimo Bella Ma quella vecchia era Gintoneria Un podcast tutto in un sorso Con un podcast tutto in un sorso Ho fatto la mia ex fidanzata Che presenziava In quel momento Quindi voce femminile Per staccare E poteva funzionare Mentre mangiavamo hamburger Preparati In malo modo Che è una delle poche cose Che è nel frigo Perché se dovessi fare Tra le domande Che cosa hai nel frigo Me le aveva mandate Mia mamma Poco prima Quindi ha funzionato per quello Però un gran ricordo di Manu E gli manderà Una bottiglia del Baggin E chiediamogli scusa Per il framing In cui si è fermato Perché non mi meritano Affascinante Andiamo con i prossimi Prossimi video Fede Fulvione Ciao amici Sono Fulvio Grafico del podcast E sono qui per dirvi La mia puntata preferita Di Gintoneria In assoluto Quella con Francesco Stragapele Parte 1 E anche parte 2 Della seconda stagione Per Tony invece Vorrei che parlassi Un po' dell'inizio Di come è nata Gintoneria E di come sarebbe dovuto Chiamare inizialmente Ciao Ciao a tutti Io sono Elena Per gli amici Nara E per un po' di tempo Mi è piaciuto definirmi Manager del podcast Un aneddoto È che senza di me Il podcast Probabilmente Oggi si chiamerebbe Tartar di Tony E non Gintoneria Il mio episodio preferito È sicuramente il primo La nostra prima volta Un episodio dedicato All'amicizia Alle prime volte Un momento ricco di emozioni La mia domanda per Tony È Chi è tra tutti gli ospiti Quello che ha bevuto Più gin tonic Ciao Amos Amos Sicuramente Per distacco Perché Amos È stato originariamente Diciamo Diciamolo Intanto grazie a Fulvio e Nara Facciamo un applauso Facevamo Calli Poriomare Giusto Giusto Tartar di Tony Ragazzi non era male Come sponsor Dove sei andato Ospite la Tartar Ci suonava bene Alla Tartar Basement trema Tartar di Tony Era un gran nome Poi abbiamo virato Su Gintuaria Tra l'altro Pensato con Nara E ci sembrava Di aver creato Un nome geniale Col tempo Ve l'ho già detto Nelle precedenti puntate Anche prima L'ho detto a Federico Lo è geniale Lo è Poteva svilupparsi meglio L'ospite Che ha bevuto di più Allora io ti direi Parte Livio No vabbè io Sì Perché Amos Sto da ospite Prima di essere host No no io ne ho bevuti tanti Sono anche quello Che è stato male più volte Probabilmente Vero Sto da ospite Mi ricordo quella puntata Che hai girato Puntata special di Natale Dell'anno scorso Amos aveva un Siamo in fascia protetta Un cagotto incredibile Stava malissimo Sono arrivato a casa Ho vomitato Ho fatto cose indecenti Però Ieri stesso Mentre la preparavamo Ero sdraiato per terra Sul pavimento di Tony Ranicchiato Per altri motivi Per altre ragioni Sono piccoli problemi di qua Lascia Allora il Vabbè Succede a tutti L'ospite che ha bevuto di più Io da ospite sicuramente Straga Lo metterei tra la top 10 Straga perché è durata due ore Quindi siamo arrivati Perché Allora Quello che è cambiato È che quest'anno Andiamo quasi tutto in presa diretta Quindi facciamo uno ad uno E si bevono solo gin tonic Probabilmente Rarissimi refill Non so se siete d'accordo L'anni scorsi Amos In ogni pausa Faceva un refill di gin Parliamo di 3-4 gin A puntata Per 3-4 ospite Va fatto Quindi devo dirti Che forse L'anno scorso Qualche puntata Si è conclusa Sì Tra l'altro Siamo andati a bere a Rita A seguire Direi top 3 Amos No mia top 3 Amos Straga Livio Straga Pede Livio Ricciardi Io direi Straga Io Livio Sì però Comunque Cambiando l'ordine Gli addendi Il risultato non cambia Regia Vi presentiamo altri amici Del podcast Nella persona di Andrea Onori Che è tra l'altro L'onorevole Ciao sono Andrea Il video maker di Gintoneria Live Sono giù in fondo Dietro la camera Il mio episodio preferito Di Gintoneria È l'ultimo Con Livio È un episodio che mi è piaciuto molto Perché è un episodio molto interessante Ma allo stesso tempo Si vede che Tony Che sta qui E Livio Sono molto amici Quindi è anche un episodio molto divertente E ti direi Tony raccontaci qualche aneddoto Su quella Difficilissima intervista Che alla fine siamo riusciti a portare a casa Con Vittorio Feltri Questa me la devi veramente raccontare Cioè Feltri voglio sapere Tutto Allora qui non so quanto posso dire In sala C'è per caso C'è per caso in sala Gianmarco C'è per caso in sala Vittorio Feltri Lui solitamente frequenta Vi aspettavo un sì dall'ombra Tanto un applauso Perché Oh butto ragazzi Perché no Adamos Allora la puntata con Feltri nasce Perché Gianmarco Che ho conosciuto In una serata alla Pofis Per caso Che poi è finita alle 4 e mezza Insomma con vari via vai Ma parliamo di due anni fa Era uno di quegli incontri A discoteca Così casuali Le puntate del podcast Ragazzi Se voi mi chiedeste Mi hanno chiesto ogni tanto Come nascono le puntate del podcast Ogni puntata ha una storia diversa Questa di Feltri Nasce all'Apofis Nel novembre 2022 Conoscendo Gianmarco Finiamo Insomma in vari giri notturni Il buon Gianmarco Il buon Gianmarco E E poi finiamo a bere un gin tonic Alle 4 e mezza Il gin tonic Ritorna sempre nelle storie E Ci becchiamo A una di quelle amicizie Che Saltuari Episodiche Ci becchiamo ogni tanto Un pranzo Ma senza Legare eccessivamente Nella frequentazione Ci risentiamo a settembre Mi raggiunge una festa Ci becchiamo un po' di più A novembre Mi chiama un giorno Mi fa Proverò a imitarlo Doc Gianmarco parla così All'intervista Eresti Vittorio Feltri Gianmarco Insomma Vedi tu Mi farebbe un gran piacere Però pensavo Fosse un po' Iperbolica Fosse un po' Passa Arriva Natale Non succede niente A gennaio Cioè lui De botto Ti ha chiamato Dopo che Vabbè Ci sentiamo Comunque Così Non capivo Non si può neanche Che nessuno ci fosse Tutto ora Non ho ben chiaro Tra lui e Feltri O amici comuni Se non altro Però Una mattina di gennaio Mi chiama e mi dice Doc Io parlo sempre così Lunedì prossimo Siamo a colazione da Feltri Siamo a colazione da Feltri No no Colazione da Feltri Colazione da Tiffany Colazione da Feltri Siamo andati a casa sua Perché lui voleva Conoscermi Prima di accettare L'intervista Ed era lunedì 22 gennaio Splendeva il sole alto Su Milano Come sei entrato Cioè com'è Con invito di Vittorio Feltri Che ci riceveva privatamente A casa sua Il lunedì di gennaio Siamo andati a fare colazione Io e lui Caffè E Savo Iardi Mentre Feltri Dimmi che aveva il kimono Leggeva No il kimono no Ma la vestaglia sì Però con la camicia Sempre molto elegante E devo dirvi Confesserò Che quel momento Durato un'ora e mezza È stato molto più Intenso e ampio In termini anche di contenuto Che mi ha dato Rispetto all'intervista effettiva Cosa succede? E tra l'altro Lì avevo già rilevato Che lui parlasse napoletano Avevamo già fatto la gag Avevamo parlato anche in Sardo In Toscano Il direttore ce l'ha tutti E mi ha raccontato anche Delle cose che non posso dirvi Ma che Forse se apro un canale OnlyFans Di segreti Del podcast A pagamento potrei Concedere col beneplacito Del direttore Ma comunque Per ora rimarranno tali Patuiamo la data Dell'intervista Mercoledì O mercoledì febbraio Era durante Sanremo Ok E andiamo in delegazione Io Gianmarco Perché era lui L'emissario Federico E Andrea A casa del direttore Entriamo in casa Lui mi aveva detto Non ti preoccupare Facciamo un'intervista Ci mettiamo nel salotto Sudo Faccio i collegamenti televisivi Ampio Intervista in casa Divano in pelle Bello Arriviamo in casa Ci ricevono La domestica ci apre Insomma Servite e riveriti Prego salite le scale Saliamo Noi tutti Con questi marchi ingeniti Insomma così Abbiamo portato uno studio mobile Arriviamo alla porta del salotto Io vedo questa gigantografia Non so se la posso dire Del direttore con un gatto Che è nel suo salotto Un salotto bellissimo Della Londra vittoriana Uno scenario veramente iconico Ve le immagino così Cosa di fare E gongolavo L'idea di fare l'intervista lì Solo che Affacciandomi Vedo che c'era una troupe televisiva Già schierata lì Ma come? Mi chiamano la filippina No dottore No dottore No voi giù Questa non è Asian planning Sia chiaro È solo un'imitazione Venuta male Ci accoglie Voi giù Andiamo nella cucina C'è nella cucina Nella sala da pranzo Dove già ho fatto colazione Quell'altra volta E alla fine bisognava fare L'intervista Era una troupe Di fuori dal coro Di Mario Giordano Ma perché? E lui si era dimenticato Che doveva andare in diretta Alle cinque Erano le quattro e un quarto E dovevamo fare Un'intervista Ma velocissima Per stare nei tempi E quindi da lì è iniziata Un Per quello è stata difficile Da che volevo fare Un'intervista enorme E poi forse così È venuta anche bene È stata molto veloce Lui si è concesso Ma l'abbiamo fatta In venticinque minuti Fast and Furious Così per Non lo potevi prendere Anche Mario Giordano No ma non c'è Era in collegamento con me Ed è stato Ubi Maier Alla fine l'abbiamo portato a casa È stata una bella storia Non so Sono fortemente indeciso Non ho bevuto abbastanza gin tonics E posso raccontare Un momento che c'è stato dopo Col direttore Feltri Ti prego Ma forse no Forse un'altra volta Forse no Dai Vabbè Allora nel caso lo tagliamo Vabbè Un genio Un genio Un applauso ragazzi Un applauso E questa Questa è la bellezza del podcast Questa è la bellezza Di come sono diventato amico E nemico Di Vittorio Feltri Voglio bene direttore Una persona Un po' così Un po' complica Persona non compresa Dal pubblico di massa Rispetto alla simpatia La genuinità con cui Forse è compresa in realtà Perché è simpatica Spogliamo avanti Isabel Nostra videomaker Ciao a tutti Sono Isabel La videomaker Della terza stagione Di Gentoneria Ma non solo Alcune volte divento anche La stylist Barra l'assistente D'immagine di Tony Soprattutto Spiace per te Sul set Prima di girare Se devo scegliere Il mio episodio preferito Di Gintoneria Soprattutto dell'ultima stagione Quindi Quelli che conosco meglio Penso di dire L'episodio con Marco Merrino Anche se in realtà Sono legata un po' A tutti gli episodi Avendo conosciuto anche L'ospite di persona E invece Te Tony Ti va di parlarci Di un certo Vittorio Non è Vittorio Sgarbi Penso che te lo ricorderai Molto bene Magari se ti dico Jacopo De Carli E niente Ciao a tutti Vittorio Feltri Sì Ma un altro Vittorio Più importante Nella storia del podcast Peraltro Federico tu lo conosci bene Perché è il cane di Paolo Paolo è Tuo socio Che è il manager Di un ospite Che abbiamo avuto tempo fa Che è Jacopo De Carli Puntata meravigliosa Non era la prima volta Tra l'altro Quando c'eri tu Abbiamo girato Con un cane Elianto Elianto va al cane C'è stata una comparsata In questo episodio Con un cane Un lagotto Carino Devo dire Non mi ricordo come si chiama Argo 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 E gioca Vabbè Per carità Nessun problema Viene il cane in casa Giriamo la puntata Il cane è tranquillissimo Non l'ha mai abbaiato Puntata piacevolissima Girata da pochi mesi fa Bella puntata Ve la consiglio Finisce la puntata Giochiamo col cane Lo mettiamo sulla sedia Forse si deve essere sentito Molto coinvolto Facciamo le foto Le polaroid Bleffo che fosse lui l'ospite Insomma La buttiamo in cacciara Come sempre A questo punto Ci distraghiamo un attimo Vedo È sempre camera mia Ricordo Vedo del liquido giallo Che esce da sotto il letto Lo scherzetto Del buon Vittorio Abbiamo avuto anche questo Quest'anno Un applauso a Vittorio Un applauso a Vittorio Un cane meraviglioso Andiamo avanti Avanti Gintoneria live Buonasera Sono Fede Caon Manager del podcast Da un anno E La mia puntata preferita Credo sia O la prossima Con Giorgione O quella con Cristian Bragaglio Perché Sono state Particolarmente approfondite E particolarmente Profonde Che sono Due cose di grazie Comunque Tony Voglio che Vorrei Che raccontassimo Tutta la parte Nascosta Quindi Tutti gli ospiti Che abbiamo provato a fare Ma che non siamo riusciti a fare Bellissimo Un bacio a Vittorio Vi voglio bene Allora Grande Fede Applauso per lui Manager del podcast Nonché regia Di questa serata Allora Questo è l'unico video Che avevo visto Perché è stato girato in studio Nonché a casa mia Nonché in camera mia Fede tra l'altro Eri particolarmente Eri un po' delicato In quel video Ok 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 Vabbè Stendo un velo pietoso Mi state facendo in modo Che questa puntata Non eschia mai Ci state facendo inimicare Sembrate Papa Francesco Esatto Non ho detto niente Di peggio del padre Allora Nell'ordine Vi sareste potuti Disorbire quest'anno L'anno scorso Grande rifiuto Aneddoto Francesco Costa Bellissimo L'abbiamo scritto un DM L'abbiamo Sarevamo in studio A lui insieme Mio idolo peraltro Quindi Francesco Costa Ci ha risposto In cinque minuti Cioè subito E c'era quel fervore Che hai quando la tipa Ti risponde Lei chiesto di uscire Lei ti risponde subito E tu stai lì E dici Ma che m'ha detto Allora siamo rimasti fermi Amos Lo apri tu lo apri io 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 Siamo rimasti fermi In inerzia Per qualche minuto L'abbiamo aperto E Francesco Ci ha dato attenzione E ho detto Ragazzi è il nome Molto carino E delicatissimo Di una gentilezza infinita Ma solo perché siamo Dei grandi fan di Morning Ci ha detto E non solo Ci ha scritto Ragazzi purtroppo Al momento non sono disponibili E questo è stato Il rifiuto Grande Poi mi sono segnato qui La lista nera Potevamo fare quest'anno Ma non ci hanno risposto O Qualcuno voglio Togliarmi dei sassi No è bene Però avremmo Avremmo voluto fare Ma potuto Ma non potuto Cannavacciuolo Francesca Michelin Daniele Tinti Pupo Sul quale chiederei Un applauso Il nostro pubblico Pupo purtroppo Ci ha detto che Non fa Preferisce la radio Non fa podcast È spesso fuori in tournée Elisa True Crime Avremmo voluto farla Elia Bombardelli Che non so se conoscete Ma è prof di matematica Lui mi ha perpetrato Un ghosting seriale Ne parliamo da Ha iniziato anche A insegnare Nella mia ex università Io Nello stalking più totale Gli ho scritto anche una mail Dalla mail universitaria E non mi ha mai risposto Elia Io lancio un appello Ma che ti hai fatto? Ti prego Ma vienici a trovare Ma se ti va Veramente mi onorerebbe Stefano Corsi Che abita molto vicino A casa mia Lo so per certo Gli ho scritto nella mail Io ho scritto Non dirò il numero civico Ma in Viale Coldilana Gli ho scritto nella mail Siamo tra l'altro In Viale Coldilana In grassetto Vienici a trovare anche lui Ghosting Valerio Staffelli Che semmai sarebbe stata Una bella puntata Bello bello Ma ci proveremo Ragazzi Questi sono tutti i nomi L'anno prossimo Voglio rivederla Questa registrazione Che non vedrà mai la luce Don Alberto Ravagnani Che avevamo citato Anche nella puntata Con Riccardo Pedicone Stiamo facendo Un name dropping Che neanche buscetta Ultimo video Perché manca Ultimo membro Ex membro del team Anche perché siete qui Da tanto tempo Buonasera Antonello Buonasera Stello Bello Sono Edu Vi domicare La seconda stagione Di Gintoneria La puntata Che più mi porto Del cuore E che mi porto Come a tutti i giorni Perché letteralmente Ho come La sua Polaroid Di sempre E' quella Con Massimo Russo E' Una puntata Incredibile Con dei risvolti Veramente Fuori di testa E mi viene in mente Che 519 giorni fa Sul profilo Instagram Di Gintoneria Esclamavi dicendo Che l'ospite Dei tuoi sogni Per il 2023 Era Paolo Sorrentino E' ancora così? O sono cambiati piani? Altra cosa Voglio rivolgerti La domanda Che va alla fine Di ogni intervista Ovvero E' una sera Del 2029 Il 16 giugno Per la precisione Dove si vede Tony? Con chi è? Cosa sta facendo? Come ci è arrivato Fino lì? Racconta Un bacione Un saluto A tutta Gintoneria Podcast Mi verrebbe da dire Un podcast Tutto ad un sorso Grande Edu Applauso Capcat Comunque Tutti i grandi Montano su Capcat No E' una sciccheria Bella la domanda di Edu Però dai carino Allora Rispondo su Sorrentino Siamo in chiusura Credo Sorrentino E' ancora l'ospite dei sogni Forse si Però ho capito una cosa Su Sorrentino Che Esprime molto meglio Non nella comunicazione verbale Sembra quasi alle volte stanco Quando rilascio l'intervista Cioè non voler parlare Alle volte si mangia anche le parole Rivedo in questo La volontà di non esprimersi Verbalmente Poi alle volte Se hai un'aspettativa Troppo alta sull'intervista Sì sì Non riesci a godertela Fino in fondo La immagini in modo diverso Quindi sì Rimane l'ospite dei sogni Ma forse perché Anche quest'anno Un po' di ospiti Sono contento di averli fatti Piano piano Miglioreremo sulle donne Lo giuro E Sorrentino lo confermiamo Nel senso che le toglierete anche dal team Esatto Anche nella quarta stagione Neanche Esatto Bravo Bravo Ma che cazzo Amos ragazzi Potremmo anche riconsiderare di metterlo a budget No Non so se ce l'ha fatta Devo dire Devo dire ragazzi Sono cresciuto tanto Valutiamolo eh Perché la battuta è rimasta Non è male Non farmi emozionare così Che poi ci credo Non è male Non è male Non è male Non è male Comunque sei stato scautato dai Dicevo così E sull'ultima domanda Non posso rispondere sul serio Anche perché Non 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 si può far giocare Non si può Gli altri You don't fuck at my game Come direbbero gli spagnoli Francesi Diciamo che vorrei essere Con un microfono in mano Pubblico di fronte Con rispetto per lo stello bello Magari Dobbiamo sognare in grande In uno stello bello più grande Uno stello bellissimo In uno spazio più grande E continuare a raccontare storie Magari Aver appena finito un'intervista Immergermi nella folla E godarmi un gin tonic con gli amici E noi tutti te lo auguriamo Specialmente le persone che sono qua Che ti supportano Grazie a voi per questa stagione È stato un piacere enorme Grazie a tutti Grazie a tutti Questa è la terza stagione Di Gitoria Podcast Fatevi un grande applauso Stello Bello Buonanotte a tutti Tony out